Perfetto Perfetto Cesemo Cesemo Ok questo è disponibile domani Prega cazzi Allora qua dobbiamo prendere questo qua Così mi prendo tutte le cose utili Ok Ma come te ne ten Che lingua è Che cosa hai detto Non ho capito Non t'ho capito Sono sincero Ho bisogno di un traduttore Con quale voglia ti va di giocare a questo gioco? No no mi va voglia E so adesso che So un attimo Devo prendere un attimo ste robe che mi sono utili Sperando di avere quello che mi serve Ho tutti questi XP che fai te ne privi E no che non te ne privi Oh livello 47 E andamo e andamo E si farma e si farma Il quadratino Quale quadratino? Ah è Hai presente dove sta l'inizio della chat La barra sopra Poco sopra la chat Dove stanno le classifiche dei bit Che poi si è scorrici anche quella delle sub Dove stanno scritti dei nomi A fianco Non so come spiegartelo ecco Sto cercando di immaginarmi La versione Dell'applicazione di Twitch Farti capire dove sta Come no? Oddio Ma tu sei sul sito Hai aperto il browser Hai aperto l'applicazione di Twitch Dall'app E dall'app dovrebbe esserci per forza Oh io l'ho messi Ma è strana sta cosa Allora aspetta Ho bisogno di un'immagine per capire Allora Sì va bene Allora ok Hai presente dove sta scritto chat sopra? Poco sotto la live Poco poco sotto la live Dove sta il quadrato della live? Sotto c'è scritto chat A fianco al chat c'è un quadrato Che dovrebbe esserlo viola O non so di che colore Poi in base a quello che sta messo per primo Dove sta scritto chat? Poco a fianco Ma sto vedendo l'immagine Dell'app Più semplice di così Lo trovi per forza Ce la farà prima o poi Sono sicuro che Ce la farà Allora Allora Vediamo un pochettino Oh io ho preso Ah vedi che ce l'ha fatta Aspetta perché non parte? Ma perché non parte? Ma si è buggato Che ne so Non dovrebbe essersi buggato Aspetta Che ogni tanto mi si buggano i sound alert qua Comunque Grazie mille lo stesso Dammi un attimo il tempo Per fixare qua Perché giustamente Ogni tanto Non so che problemi c'ha Ok Nuovi termini Grazie a mazzi E mo per forza deve funzionare Perché non va? Tutto a posto? Tutto a posto? Lo sto mandando io da qua? Ma sto mandando a giornata Ti sound alert E' un casino Cioè le altre volte funzionava Gli altri giorni Mo oggi ha deciso che non vuole funzionare Ma che cazzo? Tutto a posto? E la sorgente non vuole funzionare? Ma non mi funziona la sorgente Che ti devo fare? Si è buggato qua Oggi ha detto proprio Non voglio funzionare Ma che Ma non è che l'hanno tolto Sto suono Dal sito funziona E da qua no Tutto scemo Questo è tutto scemo Ma perché? E' tutto scemo Se è tutto rincoglionito Va bene va bene Tanto tu lo sai che Quando vuoi Io sono qui Vediamo qualcos'altro Se funziona Perché mi pare strano Che per esempio Questo funziona E allora E' quel sound alert Che è buggato Ma vuoi vedere Che hanno tolto Le robe vecchie Perché qua Hanno fatto vari aggiornamenti Eh si Mi sa che hanno tolto Le cose vecchie No solo Solo questo Non appare Nulla Forse hanno rimosso Proprio questo 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 alert Perché è stranissimo Non funziona questo E' l'unico Che non funziona Oh Gli altri funzionano Tutti Gli altri appare Pure l'anteprima Qui sul sito Solo Solo quello Non funziona Lo devo cambiare Allora Devo trovare Il sostituto Ma lo devo fare Pure sto lavoro Dopo Andiamo bene Comunque grazie Allo stesso Per i 25 bit Te l'ho fatti sentire In un altro modo E' l'unico che non funziona Tutti gli altri funzionano Ottimo Ottimo direi Allora andiamo avanti Qua invece Qua abbiamo Un casino Da fare No che devo prendere Tutte ste robe No che go Che go Tu sorella Go Fammi prendere Prima ste robe Fammi claimare Prima questi Così poi mi prendo Il coso Qua Oh Tutti sti diamanti Che mi servono Che sono diventato Povero Io No che go Go Fermo Come sei ferma Sto coso Io volevo Prendere quest'altro Questa Dovevo claimare Questo Ok Oh Attenzione Un premio Alla faccia Del premio GG per il premio Allora Sì Tanto sono povero Non posso prenderlo Allora Dobbiamo andare avanti Dove sta Dovrei parlare Con sto tizio Ok Mi puoi crashare Spero che non Ah ok Ok Che sta novità Mi dice che devo Parla con sta tizia Ok Che è successo Ok Oh Aggiornamento nuovo Upgrade Allarma No vabbè Che ho sbloccato Di così figo Adoro Eh Quello devo scegliere Vai mettere questo Da che è il type match Vai vai Upgrade Upgrade Ah no Si faceva così Perfetto E come se ne Come me ne esco Allora di qua Ok Aspetta Però nel mentre Devo fare queste altre due cose E sennò qua Come andiamo avanti Io ho bisogno Poi Devo fare Quell'altro livello Che È proprio What the fuck Aspetta Ricicchiamo quelli Ok Ah devo selezionare No tutti i doppioni Devo togliere Ecco gli scrausi Così faccio una bella pulizia No di cappella Allora tolgo Questo qua Mi tengo solo Quelli più potenti Perfetto Allora quindi Pantaloni Lascio quelli verdi No questi qua Allora tolgo solo No questi qua I pantaloni Ne ho 50.000 Quindi Devo qualcosa Così facciamo un po' di pulizia Qui dentro Mi stanno Un sacco di cose Ah Questi qua Li tolgo tutti Minchia Non si può fare Una selezione più Mi sto facendo Un sacco di monete Così Riciclando Tutti sti cosi Che non mi servono Lo so soldi Allora no Questo lo devo tenere Questo Allora tolgo questo Quando i pantaloncini Non mi servono un cazzo Carpevia Perfino No ancora Quanta roba c'ho Mamma mia C'è un sacco di roba Perfetto E questa Questa pulizia È stata fatta Per fortuna Direi Allora qua invece Che devo fare Ah no Che penso dovessi Fare un altro riciclo Ma Mi stavo preoccupando Ho detto Ci devo perdere 20 anni Per fare sta roba Uh attenzione Perfetto E abbiamo attivato Nuovi effetti Qui altra promozione Ma si dai Ma che cazzo Ah non posso attivarlo Eh no Mesa te no Aspetta vediamo se Aspetta devo fare un'altra roba Mi sono dimenticato Ecco qua Collezione Perfetto Poi sempre qua Devo fare un attimo Questo Così Potenziamo Un altro po' Le armi Perfetto Oh E mo siamo pronti Siamo pronti Per andare Nella storia Eh si perde Un po' di tempo All'inizio A fare tutte ste cose Ma vanno fatte Perché sennò Veramente Qua non ce ne Non ci riusciamo più Se non mi metto A fare ste robe Che sono utili Ok Ok E tutto pronto Se può andare avanti No speriamo che Veramente si può andare avanti E non le cavolate Ok Ma io ci sono Vediamo chi c'è Vediamo se È fattibile che questo Potenziamento mi abbia portato Fortuna Spero Perché Se non erro Non mi ricordo Se era Il boss Finale C'era Un qualcuno Che era Abbastanza Tosto Ma Ma era questa L'arma Che c'aveva lui Mi ricordavo più Che c'aveva Quest'arma Devo essere Sincero Vabbè Questo lo posso saltare Perché c'è qui la porta Perfetto Ah ecco perché Aspetta Devo mettermi qua Se no Questo qua mi fa il culo Daie daie Dai che qua ci sono i punti più critici Perfetto No Madonna che culo Ah No c'è Il coso Dei due robot Che non è difficilissimo Dai Ecco se non Se non mi facesse Tremila danni Con sti razzi De merda Che si ritrova Vai 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 Dai che Mo stiamo caricando Pure il cammello Quindi Ok No Porca madonna Aspetta che c'ho Le monetine qua Aspetta Ok Dai che voglio Voglio tenere le altre monete Per dopo Aspetta Devo salvare questo Così mi da Dimmi che mi dai Quello che penso io Se Non era proprio Quello che pensavo Però ok Oh Carmo Carmo It's bullet time Calmo No Ho paura che questo Mi fa fare una brutta fine Se no mi sto attento Ok Ok vai vai Forse questo cammello Mi aiuta un casino Mo Così a me Non perdo un sacco di vita Uh Perfetto Era proprio quello Che mi serviva adesso Non mi danno niente Non mi danno niente Ok, ora c'è il boss qua Questo è tosto Questo è tosto No, porca miseria Aspetta che con questa Eh, mi posso fare qualche danno Vai, 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 vai Oh, non sembra però, dai Sai il fatto suo, questo Allora Vai, riutilizziamo un'altra moneta Così respawniamo Eh, dovevo capire com'è Evitare Aspetta, forse qua serve questo Vai, doppio aiuto qua Oh, porco demonio Ah, c'è tua Uh, monetina, monetina Per forza Monetina, per forza Ahia Eh, qua siamo Siamo nella cacca Eh, me artis breaking Tu sorella No Porco due Maia Li uso dopo Quando stanno Quasi tutti per morire Spee Dai che potrebbe darmi La mano finale Sì Sium Ok Abbiamo l'ultima moneta A disposizione Questo cazzo Ahia il tornato di merda Abbiamo ancora 200 secondi Ancora di tempo Dai spara Spara Tacci tua Grande Dai che gli facciamo i super danni qua Uh, il cammello qua Eh, qua E qua è top il cammello Minchia E per fortuna che il cammello c'è Almeno posso resistere Eh, le piacerebbe vincere Maledetto Vado, meno male che ci sono questi aiuti ogni tanto Mi stanno salvando il culo Eh, non tanto Forse adesso sono nella cacca Ahia Devo stare attentissimo qua Eh, mi heart is breaking Ah, non posso respawnarlo Più ho sfinito le monete Porca miseria No, sono rimasto da solo Porco due Non so cazzi C'è un'arma che fa Abbastanza danno Ma fa solo un colpo ogni tot Ci vorrebbe qualcosa di più potente Uh, danno critico Dai, dai Eh, però qua ci vuole Gesù Cristo No, per fare Per finire sto cazzo Di boss Ah, qua sono nella cacca Poi mi sa che tocca rifarlo Perfetto Cioè è difficilissimo sto boss Come cazzo lo fai C'è una marea di vita In più c'è qualcosa in più Che devi ammazzare Devi distruggerlo Sennò sei nella cacca O li cambio l'arma a questo qua Li metto Tipo una mitraglietta Sperando che riesci a far più danno Qua la tipa Li devo mettere Tipo una mitraglietta Il problema è che non c'è Non ho chissà che armi Cioè gli altri Non li ho potenziati più di tanto Quindi va tutto a fortuna Come si suol dire Oh, vediamo Ma penso che si può fare Allora vado di qua Tutto apposito Tutto apposito Salvo questo Perfetto Ok Aspeto a prendere quella roba Che sono 100 punti E come che gioco è? Il giocone dell'anno Cioè dell'anno Oddio Ma non so semplicemente Quando è uscito sto gioco È un pochino difficile Sono arrivato a un punto Un po' tosto Aspeto Mi devo avvicinare un pochettino Ah no, ok Ah Mora c'è la parte dei robottini Perché i robottoni Oddio Non ci vuole un cazzo Mandarli fuori Però Nutre bombe Ci siamo tolti dai maroni Perfetto Questo non ha fatto un cazzo Quindi Top Ah io ho fatto una cazzata Mi sa Eh Adesso devo stare attento No FIFA Non mi piace Non è un gioco Che potrebbe far per me E poi FIFA Non porta tanto Qui Non funziona FIFA C'è chi si è lamentato Dopo aver portato FIFA Ha perso la gente Piuttosto che avercela Quindi eviterei Allora Ok robottini Stop Stop Adesso mi è andato poco di culo Dai dai Aspetta Come Meno Meno danni riesco A farmi Fare Meglio è Ok Dai 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 Almeno il cammello Mi salva Da questo punto di vista Perfetto Ok Ricarichiamo Eh no Perché dovevi portarlo oggi Non è il giorno giusto Oh Oh Porco Due ste cazzo Di farfalle Ah no C'ho una moneta Di respawn Ok Top Top Ah mi servirebbe Eh Perché quello c'ho Mezza vita Ecco se Se me lo dai Capo Niente è scappato È fuggito Porca miseria Niente Mo non lo posso più Respawnare Che palle Quindi mo mi tocca Fare tutto Porco Due Mo mi tocca Fare sto boss Che cazzo Te ridi Mamma Mi tocca Faremo sto boss Perfetto Peccato che non c'ho Le monete di respawn Perché non le mettete di più Che sono utili Cioè chi ha fatto sto gioco L'ha fatto un po' male Cioè io mo Devo fare tutto con questa E questa c'ha Delle armi De merda C'è un'arma Che è buona Ma da vicino Cioè da lontano Non fa granché Quindi mo Me lo devo cavare Ma ho dei dubbi È perfetto Sono durato Due secondi Allora vado a fare Un attimo A cambiare Un attimo Le armi Sperando Di riuscirci Dovrei Return Ok È proprio la che Io voglio tornare Basta Aspetta Che è sta roba nuova Questa è una roba nuova Aspetta Come check in here Ah ma devo fare Deve fare delle robe Non ho capito Vabbè Cazzo Cazzo Ma vediamo se qui c'è Qualcos'altro Ma va a cagare Qua Pensavo Ci fossero dei premi Più utili Allora vediamo Un attimo qua Oh dai Posso aporgridare Queste robe Il fire Fa un po' cagare Ho l'assalto Oppure Quest'altro qua Il rapid gun Però è blu Se no c'è C'ho questo Al massimo Posso provare Con questo E vedere Ah posso un attimo Oh Per forza Oh per forza Dovevo fare sta roba Un upgrade Spero che sia Un upgrade utile Perfetto Uh No che abbiamo sbloccato Non ho capito Ma è che Quello è il veicolo Che cagata Se avesse un altro veicolo Lo vediamo qui invece No queste sono Le mod E qua che devo andare Io devo Prendere gli altri XP Perfetto Così avanziamo Di livello Allora vediamo Adesso Dovrebbe andare meglio Adesso Spero Testerò L'arma Che ho messo Perché la tipa E' buono C'ha Dei plus Ecco Che Sono utili Cioè Fanno abbastanza danno E in più c'è Quella roba Che si auto Ricarica La vita Quindi è perfetto Ok Intanto qua posso Schippare una parte Allora vediamo Se mi dai Perfetto Allora devo Fa sta roba Allora vediamo Un attimo Ma ho cambiato L'arma Chissà che Ah no Non era questa Era questa qua Ok Eh vedi Già qua Già qua Dai possiamo fare Un po' più di danno A distanza Perfetto Beh dai Non è malvagio Come arma Secondo me Forse Mille volte meglio Di quello che c'era prima Che era buono Solo da vicino Però Almeno riesco A fare qualcosina Dai Porca miseria Ma non ci credo Dimmi che c'ho Va a cagare Non c'ho altro Altre monetine Non c'ho Che palle Ah mi sa Che lo devo rifare Un attimo Fammi vedere Un attimo Quale impostazioni Lo vedo Un po' strano No Oh Allora è startima Challenge Ho fatto un errore Da principiante Mi so fatto ammazzare C'è roba Che prima Non riuscivo Ho fatto un errore Proprio da stupido Allora Porca miseria Va bene Che ci dai 600 secondi Che è Perfetto No No Non lo so Caduto Porco Perfetto Oh Dai Qualcosa di utile Me l'hanno dato Oh ma che Siete venuti insieme a me Non ho capito Grazie Dai Oh e dammi quella roba Ma chi aspetta Dammi il premio Quando me la vuoi dare Ok Sta facendo avanti e dietro Come un idiota Perfetto Ah ok Mi devo proprio avvicinare A lui Sennò che mi deve Da sta ceppa Ok Dai che ce la posso fare Non penso sia Così impossibile Ecco Questo qua È una rottura De palle Proprio Che ti lancia Con le palle Odiose Devo fare un attimo Sta roba Se no Ecco qua Perfetto Ah però Ste farfalle Che palle Che sono Tacci tua Ste farfalle Di merda Questa è la parte Più odiosa Va a cagare Volevo arrivare Anche con lei Alla fine Invece Vabbè Ma di nuovo È spawnato Sto coso Non l'avevo già Fatto fuori Ma che cazzo No Era quest'altra Dove lo mettere Tacci tua Ok Ok Quanta ancora Ci abbiamo Da far Ok Ci sono tolti Le maroni Finalmente Spero Datemi qualcosa Di utile Poi Porco Demonio Sì ma posso Arrivare al boss Finale Ma va a cagare Che palle Mi devo fare Il boss Così Me lo devo fare Ne devo trovare I punti critici Sano col cazzo Che io Lo faccio È l'unico L'unico personaggio Che ho a disposizione Ma cazzo Lo evito Quel cazzo Di martello Tacci tua Per forza Mi piglia Gettano che si ricarica Un po' la vita Ma dubito Che arrivo Fino alla fine Cioè C'è per dieci In più Si protegge Ogni due secondi Cioè Dai Che cazzo È un po' troppo Devo cercare Di fare qualcosa Così Vediamo Vediamo Se si carica In tempo Il cammello Spero Dai Dai Che qua Fa più punti Fa 100 Di danno Aspe Forse ho capito Noto cazzo Vai Al contrario Ecco Come arriva La parte Più tosta Perché bisogna Distruggere Sto coso Che C'ho un'arma Che fa 100 Di danno Che è Pochissimo Lo vedo Di Eh sì Devo trovare Però Il punto Giusto Perché Questo dovrebbe Essere il suo cuore In poche parole Se avessi avuto Gli altri personaggi Che avevano Darmi un pochino Più potenti Niente Devo cercare Di mantenere In vita Gli altri In qualche modo Dove stanno Dove stanno I zombie Cioè I zombie Quelli La Mummificati Ecco Quelli sono Un po' Una rottura di palle Le mummie Dove stanno Le mummie Che buttano Le farfalle Che fanno Una marea Di danno Quello È il problema Principale Perché se riesco A completare Quello Ti posso dire Che forse Forse Una piccola mano Ecco Io ho bisogno Comunque Non c'è un potenziamento Qua Questa volta Mi è andata male Prima Mi potevano dare Un qualcosina Mi hanno dato nulla Perfetto Che fino adesso Sembra andare Tutto bene Ok Perfetto Per questo Lo faccio fuori In due secondi Ok Devo vedere Di riuscire A farlo fuori Così Sperando che Le farfalle Non mi colpiscono Ok Ho trovato La tattica Non spero Che lui Mi dia Un premio Nel mentre No Mi ha detto Cento punti Va a cagare Te I cento punti No Porco demonio Non ci credo La migliore Ma hanno fatto fuori C'è tra tutti Proprio quella Scelta meno azzeccata E dammi Sto cazzo Di premio Va Fandulo Ma va a cagare Sono rimasto Con sta deficiente Che mi ha dato Questo qua Un cazzo Potevo Schipparli No Dove aspettare Quell'altro Che mi dava Cento punti Così a cazzo Porca Miseria Dai 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 Che con gli facciamo più danno No Porco Due Che forse ho trovato la tattica per sopravvivere ai suoi attacchi Il problema è che è peccato che Non ho le altre monete di respawn Sennò Sarebbero stati molto molto d'aiuto No Ma va Fangulo Ma perché E sembra che sono diventati più deboli adesso Porco Dinci Cioè che Si è ribaltata la situazione In peggio Non in meglio In peggio Cioè porca miseria Non va bene adesso Non è andato per forza bene Dai 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 Perfetto Perfetto Porco due Poi dici perché me li fanno fuori sti personaggi Grazie Si lanciano sti cazzo di missili Eh che cavolo Eppure all'ultimo ti devono colpire sti missili Ok Aspe Eh ci sono ste farfalle di merda Non è fatta apposta Dove cazzo devo passare? Niente Niente oh Me li fanno fuori per forza Per forza Oh è impossibile Che palle No no lo devo rifare Restarta Restarta per forza Che sono qua Chi si va avanti Cioè io rimarrò bloccato qui Non so per quanto tempo Non so che cazzo di potenziamento Li devo fare sti personaggi Dove li devo prendere tutti sti potenziamenti? Mi devono rendere così difficili Porca madonna Non è che dici Vabbè È una cavolata Almeno qua Mi ha dato un qualcosa di utile Porca miseria Un po' troppo bro Perfetto Dai 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 No Ma di nuovo questa Mi hanno fatto fuori Ma che cazzo Come cazzo È possibile Cioè dai È un po' assurda La situazione Vabbè Già che si rimane lui in piedi È tanto Ma il problema Eh porca miseria Ste farfalle Ogni volta È una bestemmia Per ste farfalle Oh che fa una marea Di danno No dai non ci credo Ma porca puttana Non ci posso credere Sono rimasto solo con questa Che palle Ma io non so che cazzo sta succedendo Cioè si sono deboliti Un casino Cioè è troppo Poi non è che fanno pochi danni Fanno una marea di danni Sti cosi Cioè è diventato Ingiocabile Devo fanno apposta Perché devi shoppare Io so sicuro Fanno apposta Sti bastardi Io non shopper un cazzo Se volete che shop Dovete darmi i soldi Non è che Mi fate Sti livelli Complicatissimi Cioè c'è una pazienza Io Allucinante Altri avrebbero già Quittato sto gioco Adesso sto sicuro Che arriva il boss E ci muoio Putta puttana Dai ci metto un casino Questa Era buono Come aiuto Finale Come ultima possibilità Ma Così dai E' un po' troppo Aspetta Almeno con questo Posso avere un piccolo aiuto E' un po' troppo Eh tua madre Dai e spara Dai e spara Sbagliavo tasto Madonna cara Stavo sbagliando tasto Meno male che c'ho il qua Il coso Il cammello Mi potrebbe dare una piccola mano Ah Non è andata Spero che si ricarica subito Dai almeno questo Abbiamo ancora Abbiamo ancora nuove vita Da far fuori Per fortuna Non c'è un tempo A disposizione Quindi Posso metterci Una vita No Porco 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 Dai 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 Eccomo arriva la parte più difficile Riuscire a fare fuori questo E avere abbastanza Non è un'arma potente Quello è il problema Devo trovare un'arma potente Perché sennò ci metto 20 anni Veramente È lento Quello è il problema Cioè non è che è lento Fa poco danno Qui ci metto un casino A far fuori sto coso Se no Forse ho capito Come potrei fare Allora Provo l'ultimo tentativo Con Con questo set E poi Al massimo Ricambio le armi Vedo un pochettino Vediamo se riesco a risolvere Il problema E ci sto impiegando Una vita per far suo livello Una cazzo di vita Porca madonna Aspetta Ma voglio giocare con questa Dai Così almeno Mi fa un attimo Una roba Tanto qua è sicuro Che non mi fanno danni Perfetto Perfetto Ecco mo Uso questa Così Almeno questa Si può recuperare Le vite C'è questa roba Che è Stra mega figa Uh Top Top qua Non mi faccio fuori Questo Perfetto Ah Le farfalle Qua Dio Merda E mo qua Eh lo sapevo Tacci vostra Dove sta quell'altra Mannaglia Dai Così almeno Questa qua Fa un po' di danno Non se riprendono Gli altri Gli altri Almeno li possiamo Sfruttare Più avanti Nel boss finale Oh Porco Due Dai 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 E mi sa che gli altri Si ricaricano Quando sono lì Oh no Perché se è così Oh GG Perfetto Così si ricarica Un po' di vita Manca poco Manca poco Per farla fuori Perfetto Ecco Vorrei far Ecco Vorrei Mettere questa Qua Aspetta Che mi deve dare Un qualcosa No Mi può dare Un cazzo Ok Questa La utilizzerò Per ultima Mo che Ci abbiamo Tutti e tre Almeno adesso Che ho capito Come farmi fare Meno danni Possibile Possiamo ricaricarla Non me ne sono accorto Stop No Spero Riuscire a prendere Questa Mamma mia Che culo Ok Così adesso Posso far fuori Questo No 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 Porco Due Eh il problema Adesso come cazzo Lo faccio a superare Aspè Ok 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 così almeno Porca madonna Oh Luca ammello Luca ammello Vai vai che il cammello È buono Dai almeno il cammello Posso sopravvivere Dai No Ok ok Top Ok questo si rimpicciolisce Ora Ok qui facciamo più danno Porco Due Dai 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 Ce la possiamo fare Se mi si riattiva il cammello Dopo Possiamo fare I miglior danni Dai che siamo Siamo a per set Top Top Vai il doppio dei danni qua No non se ne accorge Che li stiamo sparando da dietro È assurdo È assurdo Vabbè una volta imparata Ste skill Oh dai Un pochettino di combo No porco No porco No porco dinci Ok Ok Vai per 4 Abbiamo ancora 4 vite a disposizione Cioè 4 vita Cioè 4 vite ancora c'è il nemico Se si carica il cammello È top È top O devo cambiare qualcuno Una squadra Ma chi posso mettere Quello è il problema Non ne posso mettere 4 Se ne avessi 4 Però mi sa che la squadra Ha il minimo di 3 No Allora fammi vedere Non era qua Lo dovrei cambiare Ho questo Ho questo qua Vediamo Cosa c'ho di buono Assalto Però non so se è più Se è da vicino Mi fa più danno Oppure potrei mettere questo qua Ma Non ne sono molto sicuro Questo non so Quanto danno fa È un po' difficile Qua situazione Proviamo questo Vediamo se funziona E poi Devo vedere Perché io c'ho un quarto Ma Non so se posso farlo inserire Nel team No Devo per forza sostituire qualcuno Massimo 3 Il problema è che si può mettere Massimo 3 Perché anche lei Non era malvagia Vabbè Proviamo così Poi vediamo Vediamo se così funziona Speriamo bene Ma bene Io ci sto provando Se non l'unico modo È che Devo provare Per farlo Per conto mio E Skipperemo In live Questo livello Non è che ho altre soluzioni Perché di sto passo Non lo finiamo mai Sto livello Perché ancora Non ho capito Perché c'è quel boss finale Che è veramente OP Veramente stronzo Allora devo provare Allora devo provare un attimo L'arma di lei Eh dai Questo è leggermente meglio Rispetto a quello di prima Qualche danno in più lo fa Perfetto Ah porca miseria Sti razzetti qua Che mi fanno una marea di danno Ecco devo fare così Ok Eh mo come capro Proviamo a metterlo qua Vediamo se recupera la vita Sì dai Fa abbastanza danno Dai Non ci prendiamo in giro Meglio di quello di prima È sicuro Dovevo vedere se riesco Ad ammazzarlo Eh Il punto quale De farfalle È veramente stronzo Eh 3.000 danni Mi fanno Una cazzo Di farfalla De merda La fortuna è che questa Si può recuperare Però è un po' di vita Però dai Non posso andare così Porco 2 Lo faccio così Io non recupero un cazzo Ah ok No servirebbe a lui Asp Niente è finito l'effetto Ok ho preso un qualcosa di utile No no mi conviene No no mi conviene rifarlo Non capisco quel punto di merda Quel punto di merda Porca puttana È impossibile Ma non l'hanno messo lì Appositamente Quei cazzo Di cosi Fastidiosissimi Le cazzo di Le bastardi Di mummie Quelle loro farfalle Di merda Che veramente È infattibile Quel pezzo Un pezzo Cioè che cazzo Ok Ok It's bullet time It's bullet time Sto drago ancora ancora Si riesce a farlo fuori Questo qua ancora ancora Ma sono quegli altri poco poco più sopra Possono due farfalle Sono 50.000 farfalle che spawnano Ti ritrovi proprio rinchiuso O ti fai fare fuori dalle farfalle O so cazzi Dai dai Porca miseria Ok ho almeno recuperato un po' di punti Ma gli altri due devono restare vivi il più possibile Perché mi servono Allora Allora Potrei iniziare Allora vediamo un attimo Ma posso iniziare così Così mi recupero un po' di punti Nel frattempo Anche se sti razzi Eh vabbè Poi ci mette pure questo Ci si mette Non ho un punto safe Safe Eh porca puttana Mi hanno tolto questa Che Era una mezza salvezza Devo puntare Sul cammello Il problema è che il cammello ci mette un po' a caricare Quindi quando lo devo usare Lo devo usare benissimo Puttacci tua Non la posso più respawnare Aspetta No Poteva darmi una cosa utile Che palle Non l'avessi spregato prima con le monete Vabbè sempre qua ero alla fine Quindi lo sprecavo prima Lo sprecavo adesso Eh tua madre quella No vabbè non ci credo Io non ci credo Ma valla a fare qua Sto pezzo Eh come si è avvicinato Ma come cazzo Eh Ok Devo trovare dei punti strategici però Rischio di farmi un male cane Dai che forse mi vuole aiutare il gioco Porca troia Bastarda Ma quando cazzo finisce sta tortura Ma porca Ma porca Porca dio Oh è difficilissimo Questo è il livello Difficilissimo Oh Io giuro Non ci sto capendo una ceppa Perché arriva Perché arriva a quel punto che Devi trovare proprio Un metodo per Per sconfiggerlo Perché ti fa una marea di danno Ti fa E non è il metodo per Per far si che tutti rimangano più o meno Perché Deve avere pure culo Se ti danno le cose giuste qua Non ti danno un cazzo C'è qua mi hanno dato la palla di neve La bomba Che frizza Ma Non me lo danno sempre Quello è il problema C'è qua Molto a culo Diciamo Eh che potrebbe andare bene Perfetto Dai porca puttana Sti cazzo Oh e ci godo Vabbè questo qua lo faccio fuori in due secondi Perfetto Porca troia Madonna mi fa incazzare Non impazzisco Per riuscire a fare sto cazzo Di livello Rifaccio Rifaccio Mi sono rotti i coglioni C'è la parte più difficile quella Dove stanno sti cristo di farfalle Come cazzo li devo ammazzare sti zombie Senza prendere 3000 di danno Troi Mamma mia impazzisco Che no lo so Che no lo so No si è caricato Quindi di carica Tutti quanti nel mentre Mentre faccio sta cosa Da morti no ovviamente Non vedi tu la sfiga Aspetta che si carica Qualcosa Così posso ricaricare anche la tipa L'altra tipa Così si prende un po' di punti Carafangulo Ok Ok Proprio che non vedo un cazzo qua Cioè Dove avere molto culo Ste cazzo di farfalle Di merda Porca truia ste farfalle No dai Non ci credo che Porca puttana Toglierli davanti È una cosa difficile Come cazzo Li fai fuori Vai 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 No No l'ho sprecato L'ho sprecato Malissimo Ma porco dio È possibile che mi deve morire sempre Quella Non può resistere È assurdo Veramente Cioè c'hanno delle armi Che arriva ovunque Ti colpiscono ovunque Porca miseria È infattibile Devo cercare Devo cercare in qualche modo Di Di avvantaggiarmi Devo cercare in qualche modo Di avvantaggiarmi Spero che resista Il più possibile Ok It's bullet time Cioè Vai a fare sta roba Con questo Acci tua Eh va Fangulo No no È impossibile È impossibile Cioè ti fai peggio danni Questo Ma come cazzo Ma ti viene addosso Questo È impossibile Viene addosso Come cazzo Si fa Porca puttana È infattibile C'è veramente È difficilissimo Qua Deve avere un culo Da madonna Se Se vuoi riuscire Ad andare avanti Le armi Che fanno Una marea Di danno Porca puttana Spero che così Si ricarica Porca puttana O così o niente Ok Forse ho trovato La cosa Definitiva Perfetto La vogliamo di farcela In qualche modo Ma cazzo Si fa Ok Ce l'ho fatta Ok Così Faccio prendere Lo voglio tenere Fino alla fine Qualcosa Perché so io Quando utilizzarlo Ok 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 Porco 2, porco! Ok. Ma così ci prende anche lui un po' di vita, un pochettino! No, è vero! Ah, dimenticavo che c'era... Vabbè dai, è ancora tutto fattibile! Aspetta, se riesco a prendere questo coso... Ok! No! Porco! Ah, è vero, non posso! Me la devo prendere dopo, per forza! Vabbè dai, posso sfruttare il suo potenziamento, là! Si può prendere un po' di punti! Eh, mo' la parte è difficile! Eh, mo' arriva la parte più difficile! Godo, godo! Eh, merda! Eh, va, pangulo, però! Un colpo mi ha fatto fuori... Tutto! Ok, forse ho capito come! Appena si avvicina, eh! No, porco! Due mi ha fatto... Dai, il cammello per forza! Oh, do cazzo, vai! Perfetto! Il cammello mi aiuto! Perfetto! Grande! Il cammello è sempre una mano in più! Top, top! E' che forse stavolta ci possiamo avvicinare! Mamma mia che cambio tattico! Geniale questo cambio! Vai, per sette! Mamma mia quanto danno! Mamma mia, perfettissimo! E' poco di danno, però! E' quel poco di danno che... Fatto a mitraglietta, comunque! E' abbastanza! Oh, è fattibilissima adesso la situazione! Mamma mia qua! Ma mi fa il delirio! Ecco, mo che si ritorna qua! Questo coso! E mo ti voglio! Ah, mo ti voglio qua! Cos'ho bestemmie! Mamma mia che ho preso! Che cosa... Che figata che ho preso, mo! Devo prend... Eh... No, mi sa che c'ho... Allora, ho sfrutto! Eh, porco o due, me lo so fottuto! So fottuto! Oh! Porca troia! Che culo! Ok, il cammellone mi salva il culo! Porca madonna! Porco! My heart is breaking! Porca madonna, porco! Se ce la faccio sono un cazzo di genio! Vai, per quattro! Non puoi resistere a lungo! No! Codinci! Ok, non mi ha tolto tantissimo, quindi... Oh! Può essere che... Si è indebolito un po'! Vai, per tre! Madonna, se ce la facciamo io godo! Meno male che l'altra tipa mi ha aiutato un casino! Madonna, per due! Attenzione, ci avvicinano per due! L'ultima fase! Questa è l'ultima fase! Resisto qua! Madonna! Madonna! Le bombe mi stanno aiutando un casino qua! Mamma mia! Qua si vince! Qua sento il profumo della vittoria! Ultimo pezzo! Mamma mia! Si può fare! Si può fare! Madonna! Se si carica il cammello... Oh! Ho vinto! Ho vinto! Non ci credo! È fatta! Madonna! Ci ho messo all'incirca... Quasi due ore! C'è quasi due ore per far sto pezzo! C'è assurdo! Due ore per far sta cosa! Porca puttana! Ci avevo detto io che c'era una tecnica! Dovevo essere più furbo! E' una volta che ho capito! Mamma mia che culo! Veramente un culo gigantesco! No non era qua dove era! C'era una cosa che dovevo prendere tipo... Vabbè sti cazzi! Se mi appare bene! Ok! Ok mo che dobbiamo fa' Ma... Ma... Ma è tutta un'altra cosa! No ci mancano altri livelli ancora! Abbiamo sbloccato altri... Altri punti! Altre cose! Non ho capito! Questa missione è nel campo! Ah! Forre questo! Questa è nella città! Vabbè se è nella storia! Facciamolo! Eh sì! Mi sa che dobbiamo switchare adesso posto! Mamma mia! E' stato duro! Sclerato come un matto! Poi alla fine erano... Erano delle cazzate! E direi per fortuna! Almeno... Ci abbiamo il culo... Ci abbiamo un culo gigante! Io ho un culo gigantesco! Dico sempre al plurale perché... Metto anche la community dentro! Leila! Perfetto! Perfetto! Vabbè schippiamo! Ok ma dobbiamo andare... Eh la madonna! Tutto sto giro! Che devo fare? Perché non lo fa fare? Pulisci il main 11-1! Che cazzo devo fare io qua che... Mi dice che è bloccato! Ma che cazzo? Quale è il problema qua mo? Io ho fatto questo mi sa! Ah no! Io mi sa che ho fatto questo mo! Eh si devo fare questo! Ma allora è scemo il gioco che mi fa schippare! Ma buh io non sto capendo giuro! Mi ha fatto schippare una cosa! Ma che cagata è? Che mi fa schippare una cosa! Allora vediamo chi mi puoi dare... Tanto spero che questo non sia difficilissimo! No! Ma ok tu sorella! Mi è venuto l'infarto! Eh mo qua! Come cazzo li faccio fuori sti qua! Ma è difficile! Ma cazzo li fai a fare fuori! Spuntano ogni due per tre! Aspetta posso... Eh no no no! Non ho manco la roba di spawn! No! No questo va rifatto! No! Devo rifarlo questo! Ho iniziato malissimo! Devo rifarlo questo! No! Vabbè! Questi qua sono proprio stronzissimi! Che poi magari potessero fare poco danno! Invece me ne fanno un casino di danno! Eh vapangulo! Ok! Ok! Ma... Ho bisogno di aiutare con il mio... ...diagestione! Ma questo è difficilissimo Sto livello Ma porco Ma non duro due secondi qua E' impossibile Io non so chi cazzo l'ha ideato sto livello un matto E' difficilissimo Cioè ti mette quel coso che spara il fuoco che salta ogni tot e non lo puoi prendere Facilmente Quell'altro che spara le frecce Un posto minuscolo Uno spazzetto minuscolo per saltare da una parte all'altra Ma che cazzo è? Ma veramente fanno i livelli per fare le speedrun Non lo so Cioè devono rendere il tutto sempre più complicato Sto pezzo mo che è difficilissimo Porca puttana Cioè io come caspita dovrei far E' impossibile da evitarli sti cosi Mi avvicina per forza Non ho capito O così O niente Bocca troia Aspetta posso prendere questo Ma che cazzo Dai Ma è impossibile Ma è impossibile C'è questo qua Ma che Ma che li devo fa' questo Sto coso che mi spara le frecce Mi spara le frecce che fa Quanto danno fa Un casino di danno Un casino di danno Cioè dai È troppo Mi spara le frecce che fa Dai porco due Ah sono morti Eh va a cagare però Ok Sì Vabbè ma che cazzo Ma che cazzo di frecce C'ha questo Frecce la madonna Ma Ah ok ma dicevo Da lì sotto Può colpire Oh l'ho fatto fuori Attenzione No che è sta cosa Ma che cazzo Ma che cazzo è sta cosa Super mega OP Vabbè mi spavano i posi Cristo Non gli riesco a fare Un cazzo di danno Senti qua Eh vabbè ci muoio Che ti ti può fa' Ah cagare Non ho una roba Per frizzarlo No E ci muoio È rimasto questo Che c'è la mezza vita Difficilissimo Non hai spazio Non hai proprio spazio Cioè hai la lava E perdi la vita Cioè porca puttana Dammi un po' più di spazio Se Se vedi che sto coso Poi mi spawnano 50.000 Ehm Mumie appese Cioè un livello Sono riuscito a fare oggi E devo fare per forza questo Se no non posso andare avanti Se vedi tu la grande scammata Ok Eh vabbù Ma io so Sono scemo che cosa Ecco Bravo Complimenti Oddio porco Dai Buggati Buggati Io canguro Come cazzo Io voglio capire Come si prendono Le monete Respawn Ma vabbè Io Madonna Mi sono Cazzo Di monete Di respawn Voglio trovare Poco il farm Possibile Che te ne danno Solo tre Ogni volta Che Tre al giorno Te ne danno Tre monete al giorno Ogni volta che Diciamo avvi la partita Ma il gioco Tre al giorno Porco due Possibile C'è che cazzo Burn No, vabbè, non mi dice che è morto subito. Ok, muore, va la parte più difficile. Come cazzo, lo faccio fuori? Fanno una marea di danno. E' peggio di quel coso, non mi ricordo chi era, c'era un coso di veramente OP. Niente. Oh, io provo a fare gli ultimi tentativi, se funziona bene, se no... Che cazzo vedevo fa'? Non posso fare i miracoli. Porca puttana. Devo sclerare. Allora. Porca madonna. Allora. ok no e perché sono caduto nella lava sono un cretino no porco due sono proprio un scemo no e perché cado madonna di cristo non gli fa un danno devo sapere forza questi quale porca miseria grande dai ma è impossibile questo ma che armi devo usare qua ma che cazzo di armi devo usare no ho ancora il cammello super caricato perché se no avrei sfruttato pure quello nel dubbio vediamo col cammello che si può fare proviamo tutto mi sa che il cammello fa più danno di sta qua dell'arm dell'arm che c'è questa qua si va porco dai è impossibile è impossibile ma che cazzo ma veramente io non ho parole ce lo giuro io non ho parole c'è altro che sta andando tutto male altro e che caspita e che caspita la porca truia meno di baggarlo in qualche modo eh vaffangulo però eh dai però non mi puoi far perdere la pazienza in questo modo niente mi deve far perdere la pazienza mi deve far perdere la pazienza sto gioco porco di dio porco di dio cioè non penso sia difficile lo rendono difficile io non so che cacchio serve prima riusciva a ricevere un sacco di cose per boostare fare e dire mo fango quello c'è ma si potenzia ogni morto di papa si potenzia prima si potenziava ogni quasi ogni minuto ce l'ho fatta apposta perché deve essere un gioco pay to win porca troia ma non sanno che io se mi metto l'impegno di impegno mi proprio so proprio testardo io te li completo i cazzo di livelli al centesimo tentativo ma te li completo cioè dai di sto passo veramente lo finiamo il prossimo anno sto gioco e dai è possibile che nella lava non si fa nessun danno ma che cazzo è bagatissimo ma che cazzo è bagatissimo ok ma può essere che non è lunghissimo sto livello e quindi il peggio si può mettere già all'inizio è possibile conoscendo questi tipi di giochi è probabile tutto non è che devo far caricare il cammello così posso almeno riuscire a battere sto coso bruttissimo ok oh forse no ok 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 no non mi dire che è continua va bene dimmi che non è difficilissimo adesso dimmi che non è difficilissimo adesso ce la c'ho pochissimo io no eh si va bu qua ci muoio pesantemente si mi metti quel coso mi metti quel coso va bu andiamo bene andiamo proprio bene che ti devo dire mi metti questo che fa una marea di danno cioè dai ma che cazzo ma che cazzo è sto livello mi sa che devo cambiare qualche arma qualcosa mi dice che devo cambiare qualche arma perché è impossibile è veramente è impossibile ho dovuto mettere qualche arma che fa un pochino di danno alla tipa allora il problema è che non c'ho chissà che arma quello è il problema cioè al posto di questo che posso mettere questo oppure no quello di fuoco abbiamo detto che non è top top riprovoco questo non c'è altro da potenziare quel problema dovrei andare tipo a una parte ecco qua devo prendere questo spero che mi dia qualcosa di utile ok ma speriamo che almeno così vediamo se con la promozione funziona che promozione è fatta vediamo se così funziona spero perché alla fine io sto per impazzire e ci manca poco ma proprio poco per impazzire allora allora lo sfruttiamo mamma mia che arma ma questa va quella è vivo l'ho capito che funziona da vicino da quello che ho capito comunque siccome devo lottare da vicino può essere pure che funziona ok ok ma non è proprio il massimo però dai io sono deficiente però devo capirci meglio mi sa che ho scelto le armi sbagliate devo capire qual è l'arma che va benissimo a distanza perché di sto passo c'è la vedo dura andare avanti dai come cazzo devo fare qua porca madonna cioè ce l'ho fatta prima ad andare avanti ma poi era peggio cioè andare avanti è ok ma è peggio dopo no e come cazzo devo fare a schippa sto livello mo ad andare avanti cioè che botta di culo mi serve mo mo devo cambiare una persona eh no se cambio lì non è questione di personaggio però cioè in base ai potenziamenti che c'ha ma devo vedere di cambiare qualche potenziamento se no poi come cazzo facciamo no 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 No... 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 No. Yeah. No! Yeah! Need help with my... Eh così devo fare Solo iniziare al meglio Sì ma questo mi colpisce ovunque Sto coso Sto mostro Non so come definirlo Sto coso Eh va fa un culo però Che palla Che non si ha tanto spazio Te lo metti su per il culo Come cazzo si può Quest'altro che le spawnano ogni due secondi Cristo Cioè dai è difficilissimo Veramente Cioè deve avere un culo della madonna Madonna di Cristo Ho voglia di spaccare qualcosa Ho voglia di spaccare qualcosa A rabbia Come cazzo Come cazzo puoi andare avanti Cioè questo rimani Fottuto Del resto Dei secoli Porca madonna Sei un casino E muoviti Porca miseria E lo trovo un sistema Per buggarlo Eh va fa un culo E ora arriva la parte Ancora più difficile Sto bastardo Che c'hai C'ha sti tre No Sei sei cosi Perché poi Respaunano Sti bastardi Porco dio Porca la madonna Ma dico io Ma tutta a me Deve capitare Cazzo vuoi Come cazzo Si può Ma fa un culo Guarda Sta sul cazzo Sto livello In qualche modo Lo devo fare Lo devo fare Oggi Oppure adesso Mi tocca Un attimo Recuperare Un po' Di cose Di punti Boostarmi In qualche modo Che se non mi boosto Non so come cazzo Posso far Perché di potenziamenti Non ne ho Armi Non ne ho E mi tocca Mi tocca Fare queste cose Per Boostarmi Avere dei punti Avere delle cose Ma vediamo Un attimo Qua Come siamo messi Allora devo fare Un hot Ok Per avere Questi qua Extra Oppure Qual è quello Che mi da Però Ma forse Mi serve Fare questo Vediamo Un attimo Spero che non C'è una cosa Difficilissima Aspè c'è una roba Qua Ma vediamo Un attimo Ok Questo è quello Con le abilità Tanto Ne devo fare Soltanto una E posso ricevere I punti Le cose Extra Faccio giusto Questo E' buona Tanto Quando ci posso Mettere 20 minuti Al massimo 10 minuti Se proprio Sono Sono Schillato Aspè Questo Ok Questo è Quello Questo è Quello Che in 50 Secondi No In 60 Secondi Dovrei Faccelo Adesso Ok Il primo Ce l'abbiamo Fatto C'è Ah no Posso Continuare Da qua Di russo Non c'era Bisogna Che ricominciassi Tutto A capo Perché Questo Avevo Già Iniziato Due Settimane Fa Mi pare E Non Riuscivo Ad Andare Avanti Settimane E E Perché Qua In 60 secondi Mi pare Devo far fuori Tutto Tutti I nemici Che ci sono Qui Dentro E Questo Ok Non riuscivo Allora Qua Mettere Vai Mettere Questo Così almeno Si è completo Questo Spero Che mi Mi da La cosa Sempre Sempre Se Non mi dice Che devo Devo farne Un altro Stare attento Qua Che c'è Il Muretto Ok No Chi Manca Ok Perfetto Ah ok No Questi tre Così Spero Che siano Gli ultimi Ok Perfetto Ma mancano Solo altri tre Top Top E Così Li faccio Fuori Tutti E che Non è Difficilissimo Fari Fuori Tutti Se hai Un'arma Buona Che Fa Abbastanza Danno Cioè Ci metti Poco Che Nulla Mamma Abbiamo Il cammello In due Secondi Mamma Bellissimo Il cammello Il veicolo Perfetto Non lo devo fare Au Ma stavo sparando Non vedo un cazzo Vai carica Ok E questo abbiamo completato Perfetto Credo Spero Possa bastare qui Così mi dai Così extra Pensavo dovessi fare tutto a capo Ecco perché dicevo Dieci minuti Venti minuti In realtà potrò iniziare Pure da dove l'avevo lasciato Geniale però Ah e mo si fa Il boss Mamma mia Ah per Aspetta ma E mi aiuto questo Spero Vabbè se mi aiuto Cazzo ci metto Mezzo secondo A farlo Porco due Da madonna È arrivato alla fine Ho messo la cosa giusta Alla fine Cazzo In due secondi Potevo fare Non potevo Cioè Potevo stare benissimo Così a guardare Il coso Il robottino Là che Sparava da solo Faceva i danni da solo Cazzo di figata Ok adesso Dobbiamo prendere Il contenuto Di questi Ok Perfetto Ah c'è un'altra cassa Aspetta qua Non ho capito Perché Ma forse posso Ah ok 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 Vai mi prendo un attimo Le gemme qua Credo siano gemme Adesso non mi ricordo Ma che c'è qua Altre Altre cose Aspetta No Ho salto qualcuno Madonna Quanti ne stanno Quanti cazzo Me l'hanno mandati Ah i Zaffiri Credo siano Almeno Io devo tradurre Poi Perfetto Dovrei aver preso Tutto No Dice che ho Saltato qualcuno Ah Ce ne sono ancora Altri qua No No Do cazzo Stanno gli altri Spawnano sempre Altri Spawnano E' finito Mamma mia Mi sono fatto Una raccolta Allora vediamo qua Cosa c'è Ok Allora vediamo qua Invece Questo è per il login Ok E sono altri Diecimila monete Allora poi Ok qua posso prendere Questi Finalmente Ok Vediamo qualche altro Modo per Oh Dai che si può fare Un upgrade Finalmente Allora La faccio su Sì dai La faccio su Delay L'upgrade Oh Sperando che Questa volta Ah no C'è un altro Upgrade Ok Che cosa abbiamo Qua Ok Sempre Giacca No Che Che Di Lisa Il pantalone A livello 45 Aspetta C'è uno Da sbloccare Un attimo Ho visto Che c'è uno Da sbloccare No vabbè Se questo è top E questo Lo posso mettere Al posto Eh oddio Devo vedere Al posto Di chi Potrei Metterlo Al posto Suo Aspetta Vediamo Se riesco A mettere Un'altra Skill No Ma vediamo Prima Le skill Le skill Di questo Allora sono Ah però Dai C'è Delle belle skill Spero che faccia Una marea Di danni Ma Ma è figa Sta skill Figo Lo sai che Potrei Potrei Sfruttarlo Questo qua Cazzo Lo posso Attivare Ma che ci Penso Io Proverei a fare Una prova Gli fico La stessa arma Livello Livello Credo sia A che livello Sta questo No la skin No Ah ok Sta messo Tutto Allora Qua Li potrei Metterlo Questo Che top Che spara Le cose Di gas Qui Aspetta Che potrebbe Fare Questo No Questa Ce l'ha Già L'altra Tipa Oddio Quello Più potente È questo Qua Aspetta No Non era Qua Devo fare Questo Giuro Che se riesco A farlo Grazie a lui GG Cioè Veramente Se riesco È proprio Un buco Di culo Gigantesco Allora Allora Speremo bene Ok Adesso ho voglia Di sfruttarlo Di sfruttarlo Come si deve Voglio vedere Le skill sue Ci avrete Ci avrete Le skill Da paura Ecco Ecco Se già iniziamo così Dritto De la lava Ma che cazzo Ma che cazzo Ma che cazzo ho attivato Non è ancora livellato Non è ancora livellato Tantissimo E che non ha la vita resistente Quindi siamo nella cacca Che Madonna di Cristo Mi viene Un nervoso Quando ci Cioè Mi ci impegno Attivo il mio cervello Per dire Come cazzo Posso fare Per una volta Che il gioco Mi potrebbe Dare una mano E invece Ma probabilmente Può essere Che si livelli Probabilmente Ce la posso fare Se Capisco La skill giusta Tanto Non è complicatissimo Bisogna Ecco Porco Due Ok No perché vado Nella lava Sono un deficiente Sono un deficiente Cioè No la parte Più difficile Mi Mi rimane Coso Ok Almeno No No porco Due Non ci credo Ho fatto caderne La lava Ma sono un cretino Sono un cretino Forte Sì ma dovresti far fuori Ma chi Chi cazzo fa Oh ma che sta a fa Ma sto robot Serve a qualcosa L'ho preso giusto Per quello Che Che potrebbe essere Un personaggio Un aiuto Utile Ma che è utile Questo Se stava fermo lì Faceva da Pungible Però Potrebbe funzionare Vabbè Il dopo Il peggio è dopo Che c'è Quell'altro tipo Che Madonna Spara fuoco Che è odioso L'ho beccato un po' di volte Quel coso Non so come ho fatto Ad ammazzarlo io Ho avuto un culo A un certo punto In un livello Perché mi sto facendo uscire pazzo Allora Proviamo Tutte le tattiche possibili Ed immaginabili E dai Allora Devo fare così A sto punto Ok Non è che riesco a fare Chissà che danni No Vediamo così No Dimmi che funziona A modo di boomerang Eh Il peggio Ma deve arrivare Dai Dammi una mano Ti prego Allora Allora Non ci vuole un cazzo Ok ma arriva la parte Un po' più tosta No perché So caluto Io Sembra nella lava Cado in quel punto C'è proprio C'è proprio un vizio mio Ok Ok Porco due No è odioso Questo qua Vai 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 Fai qualcosa Aspetto c'è il cammello Dai Alpe' c'è il cammello Porco due È rimasto con uno di vita Ma è vivo? Eh posso No Eh voleva pigliarmi per il culo Ok Dimmi che non Non succede nulla dimmi che Ma so Ma sono morto però Come? Cosa? Sono riuscito a far rispawnare tutti Ma non ci credo Ma come cazzo ho fatto? Eh vabbè Questo è La cosa più odiosa Ah i doggy Goto No Porco due Ma come cazzo ho fatto? C'avevo tipo una roba extra Per respawnarli Vai Vai fai i danni Godo Oddio Che cazzo buttano le tazze avvelenate? Oddio no Di nuovo Di nuovo sto bastardo No Che palle Sono sicuro che la prossima volta Con le monete Riusciremo A farcela con sto livello Sono sicuro Almeno due o tre monete No Spero due O spero una Però ho capito Come poter Riuscire Come poter Riuscire A completare Il suo livello Ho capito Adesso la vedo Un po' difficile Allora vediamo se ci sono Dei premi Un qualcosa Per adesso No ma mi sa che si è presa No Posso prenderlo Ah no è tipo quello che Ti serve per Fai tipo una specie di cosa Non è il genio che ti dà Direttamente il premio Ok qua abbiamo avuto 100 Spero che riesco a trovare Delle casse Perché qua non è che vedo Tantissime casse Allora Aspetta Fammi vedere un attimo la mappa Aspetta Lì c'è una cassa Ok Non è tanto però Meglio di niente Vediamo se qua c'è Qualche altra cassa Qualche altra cosa Aspetta Qui c'è un tipo Dovevo parlare con lui già Ah ok Che è una nuova modalità Ho scoperto Che cosa si dovrebbe fare qua No adesso non c'ho voglia di Era giusto per trovare Qualche cassa Qualcosina Vabbè abbiamo scoperto Una modalità di gioco Nuovo Vediamo qui sopra Cosa c'è Ok un'altra cassa Ah devo trovare la cassa più Aspetta forse è quella La cassa più grande Eh Mi ha dato qualcosina in più Se di cassa non ce ne sono tantissime Però Già qualcosa Perfetto Almeno con queste robe Speriamo di riuscire a Potenziare qualche personaggio Tipo voglio sperare di Fare qualcosa con lui Se riesco a fare qualche Qualche boost Almeno all'arma Non si può fare un cazzo Perfetto Vabbè Devo Devo un po' capire Alcune cose Perché pian piano si aggiungono sempre cose nuove Beh dai Diciamo che La perlustrazione L'abbiamo fatta Non vedo altre cassa Non vedo niente Sinceramente Ma parliamo un attimo con Victor Visto che mi diceva la missione Parla con Victor Perfetto Parliamo anche con lui Che è successo? No ma mi direi un'altra modalità ancora Ho aperto il portale Finalmente Cazzo E lì si parma un casino Porca madonna Qua prevedo un farming gigantesco Porca No vabbè Ma non posso ancora entrarci Perché non mi fa entrare? Ah ok Ma l'abbiamo Ok ok Eh però Questa è una cosa Che voglio fare La prossima volta Oddio non si vede una ceppa Ma? C'è proprio Ma che sta diventando? Cioè ho sporcato le fornaci Ma quando cazzo Siamo arrivati? Come si va avanti? Ma che cazzo Ma serio? E fa tutto automatico poi Ma vabbè Che cazzo Di figata Ma serio? Se fa da solo GG Sai che figata Lo metti qua E fa tutto su Fa tutto lui C'è qua Farmi Che è una meraviglia Ma? Bellissimo E' una figata No vabbè Troppo bello Mamma mia Ho scoperto Ho scoperto Il mondo Ho scoperto Madonna Mi dovevo mettere qui E farmare Giuro Mi dovevo mettere qui E farmare Ma ritorniamo in città Così Chiudiamo Per adesso Perché Direi che si è fatta Una certa Sì ma in tutto ciò Ma mi rimane sempre così Ah no Ok Che cazzo Sono queste robe In giapponese Ma che cazzo Cioè adesso E' cambiato tutto Ah ok Basta che faccio così Ok si ritorna Alla normalità Ok ok Era giusto Per sapere Però GG Mi è andata Stramica bene Stasera Oddio Stramica bene Oddio Passi